L'importanza della salute del pianeta, benessere a tavola, risparmio energetico, uso corretto delle materie prime. Questi temi affrontati nel corso della mattinata che ha visto protagonisti 400 studenti che hanno celebrato la giornata mondiale dell'alimentazione al polo tecnologico di AISA Impianti a San Zeno. Un evento realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo, nata per ricordare in tutto il mondo la fondazione della FAO, l'Organizzazione Mondiale per l'Alimentazione e l'Agricoltura. Il titolo della giornata mondiale dell'alimentazione di quest'anno è stato il diritto al cibo per una vita e un futuro migliori. Oltre alla visita guidata all'impianto di recupero integrale, suddivisi in gruppi, gli studenti hanno preso parte a workshop e incontri. La conoscenza profonda però di queste realtà, e è per questo che facciamo queste iniziative, fa sì che immediatamente ci sia una riduzione dei rifiuti grazie proprio alla coscienza ecologica di ognuno di noi. Una riduzione dei rifiuti nell'ordine del 10%, tanto per avere un pochino il quadro della situazione, per una città come Arezzo significa non avere 6.000 tonnellate l'anno di rifiuti. Vogliamo che da questo gruppo di ragazzi che sono qui stamattina, anche individuare e sperare che tra loro ci siano gli artigiani del domani oppure dei professionisti che possano andare ad aiutare le nostre aziende perché le nostre aziende cercano mano d'opera qualificata, cercano professionisti qualificati, quindi noi ci auguriamo che le nuove generazioni rappresentino proprio questo. Grazie. Grazie.